Bentornati e come sempre vi diamo dei consigli di lettura, soprattutto in queste giornate estive dove c'è un po' più di tempo, voglia magari di rilassarsi al mare e portare con sé un libro. Quello di oggi è un libro sicuramente particolare e abbiamo pensato di sottoporvelo anche perché l'autore Giuseppe Quaranta è un tarantino, meglio insomma, della provincia di Taranto, vive da tanti anni a Pisa dove fa lo psichiatra e il suo libro parla anche e soprattutto di malattia mentale, ma non solo. Si chiama La sindrome di Rebenson, edito da Atlantide, una casa editrice molto interessante e noi ce l'abbiamo in diretta. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, buongiorno a voi. Dunque, innanzitutto partiamo da questo presupposto, questa sindrome, in caso qualcuno stia già googolando, non esiste. La sindrome di Rebenson, dicevo, è un'invenzione letteraria, una tua idea? Certo, sì, è una sindrome del tutto inesistente, soltanto che io l'ho pensata come una sindrome possibile, in maniera un po' provocatoria, perché il DSM, che è il manuale diagnostico delle malattie psichiatriche, nel corso degli anni si è andato a ingrandire sempre di più e molti si sono interrogati sulla reale esistenza di molte sindrome psichiatriche. Quindi, diciamo, l'invenzione della sindrome di Rebenson ha avuto anche questo intento un po' provocatorio per cercare di capire quanto alcune entità diagnostiche siano reali e quanto in realtà siano frutto di un'invenzione un po' a tavolino. Nel libro ci sono tanti temi che tocchi, c'è il tema della finzione, perché c'è un narratore che è psichiatra anche lui che racconta la vicenda di quest'altro psichiatra, Antonio Del Tito, che da un momento all'altro si trova vittima di quella che solo poi strada facendo si scoprirà essere questa sindrome, o meglio, sarà lui stesso ad autodiagnosticarsela. E quindi c'è un po' questo tema. Poi c'è anche il tema del vuoto, dell'oblio, della memoria. Tutto questo ha una cornice che è anche quella della nostra città, perché in qualche modo Taranto e la sua provincia ci rientrano. Sì, il libro affronta diverse tematiche, come hai detto, quella dell'identità e della memoria è sicuramente forse il tema centrale. Il personaggio principale che è Antonio Del Tito inizia a presentare una serie di sintomi, tra cui vi è quello di perdere la memoria. La perdita di memoria per noi esseri umani si collega un po' al concetto della identità, perché la memoria cos'è? Non è nient'altro che qualcosa che cementifica il nostro io e ci rende degli esseri umani specifici. Quindi io sono un io perché c'è la mia memoria che collega pezzi del mio passato al mio presente. E quando questa incomincia a sgredolarsi è chiaro che viene messo in crisi tutto il concetto di identità. E il narratore di questa storia si interesserà appunto al caso di Antonio Del Tito, perché Antonio Del Tito inizia a presentare questi problemi di memoria che pongono sempre più il problema di chi in realtà sia questo Antonio Del Tito e l'approfondimento della sua identità si avrà soltanto quando si va un po' all'origine della sua storia. La sua storia inizia a Taranto perché lui è un tarantino, ci sarà un'investigazione da parte del narratore nella sua storia familiare, c'è ancora la madre che vive a Taranto nella parte della Tarantosecchia e quindi mi piaceva, io essendo un emigrato, avendo studiato a Pisa, essendo a Pisa mi piaceva ritornare perché per me il ritorno, il ritorno all'origine, il ritorno nella terra da cui provengo è sempre una scoperta, è una scoperta delle proprie radici ma anche di quello che siamo. E quindi diventa questo viaggio al sud, diciamo alla scoperta delle radici di Antonio Del Tito, proprio un viaggio simbolico di quello che è la nostra poi identità vera. Giuseppe abbiamo parlato di memoria, noi in qualche modo negli ultimi anni la memoria l'abbiamo un po' delegata ai nostri dispositivi, penso a tutte le fotografie che ci scattiamo, magari i ricordi che finiscono negli smartphone e non restano nella nostra mente. La domanda è più allo psichiatra che allo scrittore, questo avrà delle implicazioni da qui a un medio termine secondo te? Colvi è davvero un tema molto centrale della nostra epoca perché noi siamo abituati a pensare che la memoria sia un baule in cui riponiamo le cose e poi a un certo punto pretendiamo di andarle a ritrovare esattamente come le abbiamo archiviate. E quindi l'archivio social è diventato un po' una specie di baule, di armadio in cui stiamo riponendo tutti i nostri ricordi, addirittura c'è gente che non si vive nemmeno gli eventi se non vengono fotografati, resi attraverso dei reel, dei video. La memoria purtroppo non ha questa funzione, non è una funzione di archivio, la memoria è qualcosa strettamente correlato al presente. I nostri ricordi affiorano nella nostra mente, Proust lo sapeva bene, a secondo del momento presente che viviamo e quindi sono plasmati dal nostro presente. È una funzione estremamente instabile, estremamente evocativa e pensare che la nostra memoria possa sopravvivere attraverso un'archivazione significa sradicare la nostra identità, il nostro essere delle persone. Quindi questo sicuramente avrà degli effetti, sono in larga parte imprevedibili, ma certamente questa archiviazione digitale, nel libro non si parla tanto di mondo digitale, è un libro che ha un sapore un po' d'antan, però sicuramente emerge il problema della memoria come una funzione altamente instabile, a tal punto instabile che archiviandola attraverso questo tipo di dispositivi rischiamo paradossalmente proprio di perderla.